Musica Sparatoria in un liceo americano a Seattle, esattamente alla Marsming High School. Almeno due studenti sono stati colpiti, ma le loro condizioni al momento non sono note. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressore, non è noto ancora se uno studente, ha aperto il fuoco all'interno della caffetteria della scuola. Non è ancora noto se l'assalitore sia ancora dentro il liceo. Tra l'altro, proprio pochi minuti fa, un giornale locale ha citato alcune fonti, secondo cui colui che ha sparato all'interno della struttura sarebbe stato ucciso. Il liceo si trova al nord di Seattle. Per ulteriori informazioni, appuntamento nelle prossime edizioni. Il legale di un emboss mafioso potrà porre domande al capo dello Stato napolitano nel processo sulla trattativa Stato-Mafia su quanto accadde fra il 1993 ed il 1994. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Palermo accogliendo la richiesta dell'Avvocato e rimarcando l'assoluta disponibilità del capo dello Stato per il prossimo 28 ottobre. Dopo la parentesi europea torna il campionato di Serie A con appena tre anticipi alla sabato per l'ottavo turno di andata. Si parte alle 15 con Empoli Cagliari, sardi reduci dal 2-2 contro la Sampdoria ed i toscani dall'1-1 con il Genoa. Alle 18 sfida delicata in casa alle Tardini per il Parma contro il Sassuolo, reduci dall'impresa di aver pareggiato con la Juventus. Infine alle 20.45 la Roma dopo il 7-1 in Champions League ad opera del Bayern Monaco cerca i tre punti a Marassi contro la Sampdoria.